Quanti gol hai fatto? Per adesso in campionato 21 A quanti vogliamo arrivare? Almeno 3 Propositi per la stagione? Questa, vincere il campionato Ti trovi bene in questa società? Sì, è una società organizzata Le differenze tra qua e il Bologna? Ah, il Bologna... Vabbè, sono più brevi a giocare, oltre a quello A chi ti ispiri? A Toni Kroos Ma cosa hai fatto in quella più bella? Eh, ho toccato tanti palloni e ho smistato bene Tiro Quando esulti e lo radica la tua fidanzata, come fai? Mi faccio fuori Qual è il momento in cui hai sentito più tensione nel campo? La partita che sente di più? L'anno scorso nella finale interprovinciale Contro? Etrusca Facciamo un piccolo test Chi ha vinto l'ultima Champions? Barcellona No, è niente L'ultima Europa League Ma non ci credo Non lo so Propoggi di per la stagione? Speriamo di vincere Questa è stata la partita più bella che hai giocato? Contro la finale del Tassi contro il Sassuolo Vai bene a scuola? La ragazza ce l'hai? Sì Mora o bionde? Mora Amorosa e bionde immagino No, è mora Singolo fidanzato? Single per ora Per ora Il tuo sovrannome vero? Come è qua? Ficora Sarda Piccora Sarda? Come mai? È perché ha origini sarde Meglio del Piero o Totti? Del Piero Chi di voi è più leader della squadra? Mattia Ma no Chi di voi ancora non è stato nominato per essere il più forte? No, io ti credo Il giocatore preferito Salsedo Salsedo Chi è Salsedo? Difensore della Fiorentina E come va il tuo giocatore preferito? Perché è ignorante Olof Melberg Melberg Ex giocatore della Juve Della Juve, mi ricordo Come vai Melberg? Perché è un grande Manninger Alexander Manninger Berner Deschi Apice la tua carriera Quando ha falciato qualcuno Come l'hai falciato? Da dietro Fa una domanda a tuo compagno di squadra Chi è Salsedo? Sei vergine No Quanto sei ignorante Dicelo E hanno detto che la partita più sentita del campionato era contro di voi Li avete già battuti Certo Ha ritornato che vi fanno un culo grosso come una casa No Cosa volete rispondere? Ho sempre perso Ho sempre perso Vediamo Non hanno visto palla Cosa volete rispondere?